Grazie per consentirmi di condividere in un'udienza così qualificata l'esperienza italiana di contrasto al crimine organizzato nel settore del traffico dei migranti. Ieri il forum consultivo dei procuratori generali dell'Unione Europea che si è tenuto all'AIA in Olanda nel quale ho potuto presentare questa stessa esperienza ha avuto la seconda sessione dedicata al tema del contrasto del traffico di migranti in forma organizzata. Questo mi ha impedito di partecipare all'intera meeting di oggi e di ieri e me ne scuso fornirò però come materiale di lavoro e di studio quello che è stato utilizzato ieri nel forum consultivo perché l'Italia è molto impegnata nel contrastare un fenomeno difficile che ha molte sfumature e che richiede strumenti giuridici anche innovativi rispetto al passato che siano in grado di dialogare col continuo mutamento delle modalità operative delle organizzazioni criminali per loro natura opportunistiche. Il rappresentante argentino ci ha appena ricordato che anche una sola vita umana ha un valore non quantificabile. Purtroppo noi in questi anni abbiamo dovuto assistere alla perdita di migliaia di vite umane. La sola procura di Catania negli anni che vanno dal 2013 al 2015 ha visto la sola procura di Catania, ha trattato procedimenti nei quali sono morte più di 2000 persone. noi come adesso vi dirò in estrema sintesi rimandando al testo scritto della relazione abbiamo potuto ottenere dei risultati importanti non solo la procura di Catania anche quelle di Palermo di Reggio Calabria, di Lecce, risultati che hanno portato alla condanna di centinaia di soggetti in qualche maniera correlati al traffico, non sempre solo scafisti, cioè le ultime ruote del traffico ma anche gli organizzatori, fino ad arrivare al livello più alto dei capi dell'organizzazione egiziana delle due organizzazioni egiziane, tre persone per le quali abbiamo chiesto l'estradizione purtroppo senza esito. E' chiaro che noi ben sappiamo che i flussi sono governati da organizzazioni criminali che trattano i migranti non come beni, come spesso si dice, ma come oggetti di scarso valore. La domanda per ottenere un posto sui mezzi diretti verso le coste del Mediterraneo è talmente alta e il prezzo che questi migranti possono pagare è talmente basso che agli occhi dei trafficanti il valore economico del singolo è irrilevante. Ciò spiega le condizioni terribili del viaggio via terra che affrontano coloro che provengono dalla fascia centroafricana prima di raggiungere le coste della Libia. I migranti sono maltrattati durante il lungo viaggio per terra per massimizzare il profitto e una volta giunti sulle coste libiche sono chiusi in baracchie sotto sorveglianza di milizie brutali a volte bastonati fino alla morte. Dalla Libia vengono fatti salire su imbarcazioni non in grado di tenere il mare, vecchi pescherecci o gommoni costruiti per portare mercanzie lungo i fiumi e non per affrontare lunghe traversate in mare aperto. Punire i trafficanti è un impegno innanzitutto imposto dalla legge che prevede come grave reato l'organizzazione del traffico ma è anche un impegno politico importante perché la capacità di rendere costoso un traffico che altrimenti assicura grandi profitti senza rischi reali può far sì che i cittadini europei comprendano la gravità del fenomeno e accettino di accogliere i migranti come vittime del traffico, quali sono. Questi guadagni si estendono anche ai Paesi europei dove l'accoglienza e l'assistenza rischiano di divenire un fruttuoso business che ha fatto dire a un esponente di rilievo della catena italiana della solidarietà, arrestato per aver tratto profitto illecito che con i migranti si guadagna più che con la droga. Punire anche un imperativo morale. Noi magistrati del Pubblico Ministero siamo abituati a vedere cose orribili tutti i giorni e forse per questo rischiamo di diventare cinici. Vediamo bambini abusati, donne violate e persone uccise nei modi più brutali. Eppure è difficile anche per noi osservare impassibili centinaia di uomini, donne e bambini affrontare ogni minaccia e sofferenza, privarsi di ogni bene per raggiungere la meta di una vita degna di essere vissuta. Negli anni 2013 e 2015 sono stati raggiunti importanti risultati nell'identificare e perseguire i responsabili delle organizzazioni criminali. In questo lavoro è innanzitutto emersa la questione della giurisdizione nazionale in alto mare. I trafficanti infatti hanno escogitato un sistema che consentiva loro di massimizzare i profitti e di rendere minimi i rischi di essere arrestati. Utilizzavano grandi imbarcazioni che trainavano barche più piccole. Ben al di fuori delle acque territoriali, a volte anche a 200 miglia di distanza, i migranti venivano fatti salire su barche più piccole e insicure e venivano abbandonati e messi in gravissimo pericolo. Il barcone più grande tornava in Egitto per prendere altri migranti e ricominciare i viaggi. Le procure della Repubblica hanno affermato che queste modalità di traffico sono punibili per la legge italiana anche se i trafficanti restano in acque internazionali. Abbiamo affermato questo sulla base della Convenzione della Nazione Unita di Palermo contro il crimine transnazionale e il suo protocollo aggiuntivo contro il traffico di migranti, sulla Convenzione di Londra che impone agli Stati l'obbligo di soccorso in mare, sulla Convenzione di Montego Bay sul diritto di ispezione delle navi senza bandiera in alto mare. Questa impostazione è stata positivamente valutata dalle Nazioni Unite nell'ultima sessione sul crimine organizzato e viene ora considerata anche dall'Unione Europea nel più grande contesto di come sarà possibile punire i trafficanti nella nuova situazione determinata in Libia. La crisi libica ha infatti cambiato le modalità operative delle organizzazioni criminali che sono per loro natura opportunistica. Le nuove modalità di traffico sono ancora peggiori di quelle del 2014-2015. e vi è la concreta possibilità che organizzazioni terroristiche tragano profitto dal traffico. Le rotte del traffico di migranti cominciano ad essere utilizzate anche per il traffico di esseri umani e i trafficanti caricano oltre ogni limite le imbarcazioni già non in grado di tenere il mare. Causano così la morte di centinaia di persone nonostante l'impegno della Marina Militare Italiana che affianca la missione europea EUNAV4MED con una missione volta esclusivamente al salvataggio, mare sicuro. La nuova situazione pone seri problemi alla possibilità di ottenere risultati effettivi nella punizione dei responsabili. La presenza di navi militari di diverse nazioni europee nei pressi della costa libica impegnate nella missione pone con forza sempre maggiore la necessità di un effettivo coordinamento ai fini giudiziari sin dal primo intervento in mare che era una costante dell'operazione Mare Nostrum e che ora non è più consentita nelle nuove modalità operative. Noi non possiamo più avere a bordo delle navi militari che operano per EUNAV4MED il team di ufficiali specializzati di polizia in grado di operare immediatamente sin dalla primissima fase del salvataggio dei migranti. La maggior parte del traffico si svolge in zone dove non è possibile alcuna cooperazione giudiziaria o di polizia con lo Stato coinvolto e si pone oggi per la prima volta il problema della sussistenza di crimini contro l'umanità e la possibilità di perseguirli da parte della comunità internazionale. Punire i migranti per il solo fatto di migrare non ha invece alcun fondamento giuridico e può avere conseguenze negative spingendoli verso la clandestinità. La clandestinità è il luogo dove il migrante si trasforma il più delle volte nella vittima dello sfruttamento intensivo sia nella prostituzione che nel lavoro nero. È molto preoccupante ciò che sta avvenendo in Libia o per l'instabilità del Paese sta consentendo di utilizzare la rotta della migrazione per il traffico di esseri umani. La nostra esperienza di questi anni nella quale abbiamo potuto punire molti trafficanti ci ha insegnato che la pressione migratoria è così forte che non vi è alcuna risposta definitiva. Chiusa una porta se ne apre immediatamente un'altra. È dunque necessario che il discorso politico sulla migrazione tenga conto del suo carattere strutturale. Si tratta di un'emergenza quotidiana destinata a durare. È forse un ossimoro, ma ben rappresenta la realtà. Utilizzare strumentalmente le legittime preoccupazioni dell'opinione pubblica è molto pericoloso e innesca reazioni che, non è detto, saranno sempre controllabili. È dunque indispensabile che il discorso politico sia sempre razionale e ciò è possibile senza che si perda per questo l'efficacia nell'azione. Basti pensare all'esempio del terrorismo. Agitare lo spettro del terrorismo come strumento per opporsi all'immigrazione non tiene conto della realtà che vede le organizzazioni terroristiche operare con ben altro radicamento all'interno della Comunità Europea. Un discorso razionale consente invece di affrontare un problema reale, che è quello della possibile radicalizzazione dei giovani provenienti da zone di conflitto e dunque dell'assoluta necessità di una completa identificazione di tutti coloro che entrano nel territorio dello Stato. Per rendere possibile l'identificazione senza determinare insormontabili difficoltà agli operatori è però necessario superare gli egoismi nazionali ed affrontare il tema degli accordi di Dublino. Il giubileo della misericordia è anche il giubileo della giustizia, come Francesco ha più volte ricordato. La giustizia è certamente qualcosa di complesso e che va molto oltre la sanzione penale o la giudicazione. Eppure anche noi, operatori del diritto penale, possiamo avere una piccola parte nel ridare al migrante l'intangibile dignità di essere umano. A questo proposito voglio ricordare che il Governo italiano, con l'apporto dell'autorità giudiziaria, sta completando un'operazione per il recupero degli oltre 700 migranti morti nel naufragio del 18 aprile 2015. Questa operazione, che è molto costosa sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista emotivo per chi la compie, recuperare centinaia di corpi non è una cosa facile. Non è finalizzata a raccogliere prove per il processo. Cioè è già stato fatto con l'impiego di un robot in grado di operare a grandi profondità. I responsabili sono già a giudizio davanti alla Corte di Catania. Lo scopo dell'operazione è dare sepoltura ai migranti per proteggerne la dignità e consentire un domani l'identificazione delle vittime. Fino ad ora 198 salme sono state recuperate. Le vittime saranno sepolte in Italia, alcune nel cimitero di Catania, città che ha accolto le vittime in passato e che ha dedicato loro un monumento perché non se ne perdesse la memoria. Anche questo è parte della politica italiana sulla migrazione, come monito perché si ricordi che siamo stati tutti in un'epoca vicina o lontana della nostra vita come popoli migranti. Grazie. Grazie.